La vicenda del 15enne trovato in coma su una panchina dietro Piazza San Domenico, ha lasciato una da comunità retina estera fatta, però non è una cosa nuova, dottor Beccattini, purtroppo è un'allarme sociale che lei ha lanciato da tempo. Sì, i ragazzi adesso che si ritrovano dopo il Covid escono con tanta voglia di stare insieme, ma anche con idee confuse su come stare bene insieme e l'alcol sembra essere per loro qualcosa che li disinibisce, che li rafforza e l'alcol che gli viene presentato a noi adulti come qualcosa che serve per ogni occasione, ma l'alcol è veramente qualcosa che frega. Lei ha parlato di adulti, in che modo possono responsabilizzare i giovani? Beh, devono innanzitutto responsabilizzarsi loro, caricano molto di aspettative ma anche di attese i loro bambini. Quando poi il bambino diventa adolescente non è molto preparato a tollerare le frustrazioni e quando comincia a dare dei problemi va ascoltato, non va punito, non va pensato impazzito, non vanno rotte le comunicazioni, anzi è allora che vanno aumentate nella quantità e nella qualità. Il SERD è molto attivo anche nelle scuole. I ragazzi sono particolarmente in gamba, sono ragazzi che sanno quello che devono fare, devono solo avere lo spazio per riflettere e per comunicare fra loro. Noi stiamo con loro a raccogliere le loro storie, i loro pensieri, ad organizzarli perché loro diventino poi portatori di messaggi sani, perché i ragazzi sapranno uscire da questa difficoltà. Però bisogna dar loro una mano.